Una signora nella disperazione di voler dimagrire prova tanti tipi di diete, fra cui arriva alla dieta delle banane. Non è ciò che state pensando. Le banane sono quelle gialle che si sbuccia, arrivano dall'Africa, dal Brasile. Praticamente gli dicono a questa signora che per dimagrire deve mangiare colazione banane, pranzo banane, merenda banane, cena banane. Colazione banane, pranzo banane, merenda banane, cena banane. E così per un mese, colazione banane, pranzo banane, merenda banane, cena banane. Ho detto, signore dimagrita, non ho perso un grammo con sta dieta delle banane. Ma davvero come mi arrampico sugli alberi?